C'è, ma tu c'hai il tuo ragazzo che gli offrono 3.000 euro al mese per fare quello che ha sempre voluto e ancora rompi le palle, dai! Che c'entra? Quello che ha sempre voluto lui per l'appunto e io? Dai! No, scusa, Francesca, devi crescere, capito? Cioè, nella vita c'è chi ce la fa e chi non ce la fa. Io con figlio a Frosinone che cosa dovrei dire? Ilà, tu te la sei voluta, perché non ci hai pensato prima? Ma io me la so voluta, ma pure lui te lo sei voluto, scusa, l'hai scelta, adesso lo segui! Voi vi rendete conto dove siamo? Siamo ancora fermi al punto in cui l'uomo sceglie il lavoro, la donna sta a casa, lo segue con i figli, Fornelli, ma dai, ma ti prego! Ma il femminismo tu lo usi solo per scopare, Ila? Ma guarda, che mi sa che per scopare lo usiamo un po' tutte e due. Vedi come sei? Eh? Per te, tanto... Guarda, lasciamo stare, tanto non te ne frega niente di nessuno, quindi è anche inutile parlarne. A me, a me, perché a te e a lui te ne frega. Perché? Perché secondo te a lui di meglio ne frega, eh? Ma l'hai mai vista ribaltata questa situazione? No, perché sembra che sono io quella che gli rompe il cazzo, cioè che gli vuole male, Vincenzo. No, Vincenzo, fammi parlare, scusami, eh. Dimmi una cosa, dimmi che cazzo ci vengo a fare io in Islanda, me lo devi dire. Perché io là non posso fare assolutamente nulla di tutto quello per cui ho studiato. Poi quando è che dovremo partire? Quando è tutto pronto, organizzato, perfetto per andare a Milano. Dai! Lo sai che io là magari trovo una borsa, che ho dei contatti e posso trovare anche un agente. Ma come faccia a venirmi a rinchiudere in quell'isoletta del Menga? Me lo dici, Vincenzo? Io non posso partire con te, non vengo. Dimmi che fai te. Francesca, non è così. No, invece Vincenzo è così, dimmelo. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Dimmi che cosa fai? Parti o non parti? Ma dimmi lo tu, dimmi lo tu. Io lo so la risposta, quindi se me la dici per favore... No, sei tu la risposta. Hai capito che non sto facendo un'ipotesi, eh? Io non parto con te. Che fai? Ma io me cazzo faccio a rinunciare a un posto a professore associato, ma glielo volevo chiedere? Sei io l'egoista? Ah, sono io l'egoista? No, però basta che non me la venite a dire a me. Allora, facciamo così, ognuno per la propria strada? Ognuno per la sua strada.